Regione Toscana, il consiglio regionale. Di 84 anni di brato è stato trovato senza vita e allora vorrei che tutti insieme ricordassimo anche questa terribile alluvione. Giovanna Innocenti, 83 anni, presidente a Livorno e deceduta presso l'RSA il Morino di Rosignano. Alfio, rispettivamente di 70 e 65 anni, di Lamporecchio. Teresa Pecorelli, 84 anni, di Montemullo. Tindaro Bianico, 73 anni, a nostra Regione. La Toscana è una terra che nei momenti di difficoltà, forte della grande solidarietà dei propri cittadini, è sempre riuscita ad alzare la testa, a farlo in queste ore, è stato nei luoghi del disastro. Si è aperta così l'ultima seduta del consiglio regionale della Toscana, ricordando le vittime dell'alluvione che ha colpito il territorio di Prato e della Piana Fiorentina. La seduta è stata completamente dedicata ai fatti alluvionali che hanno colpito la Toscana e in Aula c'è stata l'informativa del Presidente Gianni, che ha illustrato in dettaglio il quadro complesso delle azioni già in corso e degli interventi da programmare. Dopo un ampio confronto tra i gruppi politici, sono stati approvati dall'Aula con voto unanime una serie di atti di indirizzo presentati dai singoli gruppi, sia della maggioranza che dell'opposizione. Oggi le emergenze sono quelle di chi sta lì nel pango, sono quelle dello smaltimento dei rifiuti, sono quelle del smaltimento dei riquami e degli spurghi, sono quelle di ricostruire il tessuto da parte del nostro genio civile, delle nostre operatività sulle strade, sulle piazze, sugli argini dei fiumi, sui ponti. Ecco che da commissario mi sento di ringraziare tutto il volontariato organizzato, le forze dell'ordine, coloro che tecnici della protezione civile dei vari settori o membri dalle colonne mobili che vengono dalle varie regioni, si stanno impegnando e si stanno dando da fare, proprio perché dall'emergenza si passi alla ricostruzione, con una Toscana che sappia ripartire come è nel nostro carattere, nella nostra forza. Quello che dobbiamo fare è individuare i comuni maggiormente colpiti, rendere agenti operativi del commissario, del sottoscritto, i sindaci di questi comuni che devono provvedere a fare la ricognizione dei danni alle persone e alle imprese e sotto questo aspetto, dopo questo elenco, noi possiamo incominciare a passare la liquidazione delle prime risorse per poter risarcire coloro che hanno avuto danni alle case, alle abitazioni e alle imprese, ai laboratori, ai luoghi dove si lavora. Il Consiglio chiede alla Giunta di attivarsi affinché il Governo proponga interventi dedicati da inserire già nella prossima legge di bilancio, per il sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi e per le aziende che hanno avuto danni. Tra i atti approvati anche la richiesta, sempre al Governo, affinché la dichiarazione di stato di emergenza nazionale venga allargata anche alle province di Lucca, Massacarrara e parte del territorio della provincia di Arezzo. E a questi territori si chiede una ricognizione rapida dei danni pubblici e privati. Sì, abbiamo chiesto come Italia Viva per primi che anche le province di Massacarrara, di Lucca e parte della provincia di Arezzo venissero coinvolte nella dichiarazione di stato di emergenza. Anche in queste province si sono verificati forti danni, in particolar modo alle imprese, in alcuni casi anche all'abitazione dei privati e questo è un tema di grande rilevanza. Quindi abbiamo chiesto con degli atti, fa piacere che anche altre forze politiche hanno condiviso le nostre richieste per far capire tramite il Governo Gianni, al Governo nazionale, che anche queste province devono rientrare nel quadro delle emergenze. E poi abbiamo chiesto che maggiori risorse, 5 milioni non sono sufficienti per sopperire alle spese che le famiglie o le aziende stanno sostenendo in queste ore. Se pensiamo al fatto che molte famiglie staranno per tanti mesi o settimane fuori dalla propria abitazione, anche a proprie spese, vanno non soltanto poi indenizzate le famiglie, anche le imprese aiutate a ripartire subito laddove effettuati interventi di emergenza sui quali serve un dispiego maggiore per quanto riguarda l'esercito. Quindi alcune richieste forti che abbiamo richiesto in uno spirito di carattere collaborativo e credo che questo sia stato una dimostrazione come Italia Via vuole dare una mano e vuole contribuire a risolvere le questioni urgenti di queste ore. Abbiamo consapevolezza del momento. Insieme agli altri capogruppo, ai gruppi consigliari in Regione Toscana abbiamo scelto una linea molto chiara che è stata quella naturalmente di criticare l'evento ma anche di essere propositivi. Il governo Meloni, il governo di centro-destra ha già portato in questa regione alcuni aiuti importantissimi. È venuto il vicepremiere Antonio Tajani portando 100 milioni a fondo per tutto per le aziende che stanno sul nostro territorio e che hanno subito danni dall'alluvione. 200 milioni per quanto riguarda finanziamenti ad un tasso agevolato e sono 300 milioni che il governo di centro-destra ha portato due giorni dopo in questa regione. Il giorno dopo l'alluvione in Consiglio dei Ministri è stato decretato lo stato di emergenza. 5 milioni ha messo il governo ma è soltanto un primo strep. Abbiamo consapevolezza delle difficoltà che le imprese e le famiglie stanno vivendo. Per questo abbiamo portato all'attenzione del Consiglio regionale alcuni elementi che qualificavano la nostra azione dentro il Consiglio regionale. Penso per esempio a un ordine di giorno approvato che prevede la possibilità per i comuni alluvionati, per le attività commerciali, di anticipare il periodo dei saldi. Questo porterebbe naturalmente subito del liquido all'interno delle casse, delle attività commerciali e delle nostre aziende. Abbiamo chiesto l'audizione del Presidente del Consorzio Bonifica, Medio Valdarno Bottino, in Commissione per capire anche attraverso lui cosa è successo, quali sono i reticoli secondari, i torrenti che sono esondati, quali sono i torrenti che hanno avuto delle difficoltà. Perché è successo questo nonostante ci viene raccontato che sono state fatte 100 casse di espansione negli ultimi 20 anni e che sono stati spesi 84 milioni di euro negli uomini. Sì, abbiamo presentato degli atti generali per l'emergenza che stiamo attraversando. Abbiamo chiesto che si velocizzino le risorse in tutta la Toscana. Ci siamo focalizzati sul tema dell'area costiera, quindi delle province di Livorno, Pisa, Massa e Lucca. Abbiamo approvato un atto dove abbiamo chiesto che ci sia una sburocratizzazione dell'iter procedurale perché non dimentichiamo anche la calamità naturale che ha attraversato le varie province nel giorno del 31 ottobre. Quindi un preallarme all'alluvione che abbiamo attraversato e da lì l'area costiera è stata colpita più volte e che ha creato danni agli stabilimenti balneari, alle attività produttive ma anche a tantissime famiglie che ancora oggi si trovano senza luce, senza acqua e sono sfollate. Due atti generali che sono stati rimandati in commissione invece di un'attenzione più generale a tutta la Toscana su cui c'è bisogno di un approfondimento perché abbiamo chiesto che la terza variazione di bilancio che si va a discutere nel prossimo Consiglio regionale non sia quella che Gianni ci ha presentato prima della catastrofe che è avvenuta ma che sia una variazione dedicata non interamente ma quasi alle famiglie e alle imprese colpite da questa alluvione. Quindi a breve si svolgeranno le commissioni ed andranno a realizzare anche questi atti più specifici e poi abbiamo chiesto che la legge regionale 45 del 2000, quella che prevede l'iter burocratico di stato di emergenza regionale, sia completa nei tempi più veloci perché il termine massimo è di 30 giorni ma non possiamo attendere 30 giorni che la giunta decida appunto tutte le province coinvolte decida quali sono i danni appunto e quali sono le risorse che la regione mette a disposizione per poi andare allo step successivo a quello che è quello di richiedere le risorse al governo. 30 giorni sono troppi, la regione si deve velocizzare e ci aspettiamo che già nella prossima riunione di giunta di lunedì si pare del tema e si dia delle risposte ai cittadini toscani. Voto unanime anche per le richieste del Movimento 5 Stelle di intervento sulle segnalazioni riguardanti i rischi sanitari della gestione dei rifiuti e dei fanghi. Vengono confermate tutte le ipotesi più drammatiche che scienziati ed esperti da decenni ci suggeriscono per cercare di cambiare l'approccio e il trend anche alle leggi che noi produciamo e fondamentalmente che gli eventi sono sempre più estremi, sempre meno controllabili, la prevenzione diventa fondamentale ma soprattutto dobbiamo preparare il nostro territorio a non subire danni eccessivi per quelli che poi sono gli eventi estremi. Da questo punto di vista dobbiamo dire che lo smantellamento che negli anni si è visto della legge 65 del 2014, la famosa legge marzo, non depone a favore di questa regione. L'altra riflessione è sul reticolo minore che sicuramente è quello che ha dato maggiori problemi, è il più difficilmente controllabile e che richiede non soltanto degli investimenti ma anche una previsione di minor consumo del suolo che a questo punto non è più rimandabile. La mia è una proposta che riguarda i reticoli minori, mentre abbiamo potuto appurare che durante le piogge così intense che hanno dell'incredibile, occorse in questi giorni, che hanno portato tanta devastazione, i fiumi importanti, i reticoli importanti hanno tenuto bene e il passaggio dell'onda di piena raramente ha raggiunto addirittura al primo livello, il punto debole sono stati i reticoli inferiori. Reticoli inferiori nei quali dovevano essere realizzate già in tempi passati le casse di espansione, cosa che non è accaduto. La mancata manutenzione da parte anche l'abbandono del fatto che non ci sono più le cure del territorio come accadeva fino a qualche decennio fa ha aggravato la situazione, quindi ci sono due possibilità, o andare a rierigere le sponde che avrebbe un costo infinito e tempi di realizzazione lunghissime, o realizzare casse di espansione che permettano il defluire delle acque e l'abbassare dei livelli affinché fatti come sono accaduti di una devastazione incredibile, nessuna immagine può rendere bene se non si va di persona a vedere quello è accaduto veramente, non debbano più accadere. Infine segnaliamo che il gruppo di Fratelli d'Italia ha comunicato in Consiglio che chiederà una commissione di inchiesta sull'alluvione non appena sarà finita l'emergenza, a cui si augura che vorrà partecipare e collaborare anche la maggioranza per definire e verificare in maniera puntuale che cosa è accaduto e come ha funzionato la macchina dell'emergenza. Addirittura alla provincia di Arezzo, oltre a quella di Lucca e Massacarrara, dove al di là della specificità di questa perturbazione ci sono stati danni e danni ingenti a settori anche importanti partendo da quelli degli stabilimenti balneari, come tutti sappiamo sono un fiore all'occhiello della ricezione, promozione e qualificazione ambientale del nostro territorio e anche turistico chiaramente. L'abbiamo fatto in un'aula semideserta prima dell'arrivo del Governatore Gianni, dove abbiamo anche rimarcato come da anni sui fondali delle commissioni regionali ci siano delle PDL dell'opposizione, di Fratelli d'Italia in particolare, che avrebbero potuto aiutare anche qui la reazione, comunque anche l'opera di prevenzione, nel specifico riferimento al cittadino toscano e a come questo può reagire o interfacciarsi in stato di emergenza. Speriamo che questa sia l'occasione, senza voler far troppe polemiche, che attraverso la commissione di inchiesta che viene richiesta da Fratelli d'Italia non si faccia soltanto un lavoro sulla responsabilità, che sarà presto chiaramente riscontrabile quando i lavori non sono fatti o quando si sono prese decisioni in grado di poi di non garantire la corretta regimazione delle acque in tantissimi territori della nostra regione, ma al tempo stesso quella invece di qualificare all'interno di quella commissione una più stretta rispondenza fra l'annostrazione che è fuori controllo, la perturbazione e non soltanto il cambiamento climatico e la capacità di reazione delle istituzioni nel loro complesso. Dalla comunicazione del Presidente abbiamo ascoltato come c'è una consapevole e puntuale conoscenza di tutto il territorio, di quelle che sono state le dinamiche che hanno portato a questa sciagura, ad iniziare ovviamente da quelle che sono le dimensioni, la quantità, l'intensità di un fenomeno che non era assolutamente conosciuto qui in Toscana, addirittura superiore a quelle che furono le precipitazioni e le intensità che provocarono l'alluvione del 66. Dopodiché ora occorre supportare tutta la macchina degli aiuti che non è fatta soltanto dagli attori istituzionali ma è fatta anche, e questa è una nota bellissima, da tantissimi giovani, i liceali, gli universitari che si sono resi disponibili e si sono messi a spalare come si suol dire, a dimostrazione che nei giovani abbiamo comunque una sensibilità che spesso non gli viene neanche riconosciuta. Poi ora è importante che scattino tutte le misure che sono quelle che aiutino le imprese a poter ripartire nel più breve tempo possibile, c'è l'emergenza legata allo smaltimento dei rifiuti, allo sgombero delle strade.